Se il settore dell'edilizia dà segni di ripresa, quello dell'arredamento sia della casa che del giardino già dà segni di buona salute. Rimodernare casa, essere al passo con i tempi è una delle passioni principali soprattutto per le donne. Tante le ultime novità del settore che si possono scoprire alla terza edizione della Fiera della Casa e del Giardino, negli stand allestiti presso il centro commerciale Le Grange di Piedimonte San Germano da Giociaria Fiere, dal 30 al 2 di giugno. L'arredo non è in crisi e ne siamo testimoni, ne sono testimoni gli espositori che hanno accolto il nostro invito di partecipare alla nostra manifestazione. Manifestazione che è un'anteprima di quella dell'edilizia che si svolgerà subito dopo l'estate, nel corso della quale saranno tenuti dei convegni professionali e professionalizzanti in sinergia con le scuole del territorio e con gli ordini professionali che accrediteranno i nostri convegni. Quanti stand si trovano qui quest'oggi? Oggi sono oltre 30 stand selezionati accuratamente in quanto la selezione è stata fatta proprio sulle innovazioni in tema di arredamento. Possiamo trovare valide alternative sia a livello di novità sia a livello di prezzi e ce n'è per tutte le tasche. Quest'anno l'evento è ospitato in una location d'eccezione sia per lo spazio espositivo che per l'affluenza di pubblico. Questa è una possibilità concreta per unire il mondo della grande distribuzione al quello fieristico. Crediamo in questa opportunità che in questo caso è veramente un genere mai visto in altri centri commerciali. Quindi questo connubio, questa alleanza, io la sto definendo così, è un qualcosa che secondo me premierà molto. Un modo per riunire le aziende del territorio in un unico grande evento. La fiera ha la durata di 4 giorni, inauguriamo oggi 30 appunto e chiudiamo il 2 di giugno. Quindi un invito che faccio chiaramente a tutti i cittadini della provincia di Frosinone soprattutto, ma tutto l'inderland regionale fuori oltre regione, di approfittare di questi 4 giorni perché stando in viera chiaramente ci sono tanti prezzi, tante offerte per chi soprattutto deve arredare casa o pensa a un matrimonio e quant'altro.